Il Presidente, mi dispiace dirlo, mente sapente di mentire. Non è un'ordinanza sorpresa, è una discussione che va avanti da mesi, da diversi mesi, da troppi mesi. Ricordo che, oltre all'atto deliberativo precedente, quello che prevedeva la razionalizzazione attraverso l'accorpamento in un unico istituto, c'è stato un atto deliberativo specifico che ha riguardato questo aspetto il 3 maggio del 2012. Ci sono state varie deliberazioni da parte del Consiglio d'Istituto, ci sono state diverse note da parte del sottoscritto e da parte dell'Ufficio Tecnico. Si è chiesto alla dirigenza scolastica di offrire soluzioni alternative che consentissero per tempo l'inizio regolare delle attività scolastiche sia nella Mancini sia nell'Istituto Alberghiero. A tutto questo non c'è stata alcuna risposta. Per la verità una risposta c'è stata ed è arrivata da parte di un avvocato nominato da cui è stato dato incarico appunto da parte del Consiglio d'Istituto. Abbiamo provato fino al giorno prima dell'emissione dell'ordinanza a ricucire il tavolo salvaguardando gli interessi di tutti, in modo particolare delle due istituzioni scolastiche, una riunione qui in comune alla presenza anche del dirigente scolastico provinciale, dottoressa Rosa Grano, e dell'assessore provinciale, avvocato Girolamo Giacquinto. Purtroppo in quell'occasione l'Istituto Mancini è stato assente, anche se regolarmente invitato, e quindi non è stato possibile risolvere in maniera bonaria in quel tavolo, come io avrei immaginato si potesse verificare. Fatto questo, in quella stessa seduta c'è stata una precisa diffida da parte dell'Istituto Alberiero. Rispetto al regolare inizio delle attività scolastiche, il dirigente mi ha minacciato letteralmente, mi ha diffidato a fornire tutti gli spazi e gli strumenti per avviare correttamente le attività scolastiche, altrimenti si sarebbe verificato un'interruzione di pubblico servizio. E a questo punto non ho potuto che emettere quell'ordinanza, che è stata notificata il sabato mattina, solo perché il giovedì e il venerdì la scuola era stata chiusa per disinfestazione. Che il Preside non immaginasse questa soluzione, mi sembra voler dire qualcosa di impreciso. Il Preside ha sottoscritto un verbale assieme al suo legale, in cui questa soluzione veniva prospettata già da tempo e avevamo detto che se questa soluzione non andava bene, quella che si sta concretizzando oggi, avremmo accettato ogni osservazione per porre in essere soluzioni alternative. Non abbiamo avuto alcuna risposta. Vi siete trovati ad operare una scelta di fronte a due istituti importanti, uno tra l'altro che è in forte espansione. Sì, ci siamo trovati a fare la scelta e riteriamo di aver agito con il buonsenso. Dovevamo assolutamente garantire per gli uni e per gli altri che si iniziasse in maniera corretta l'anno scolastico e che ci fossero gli spazi necessari. L'Istituto Alberghiero in modo particolare quest'anno ha aumentato considerevolmente il numero degli iscritti, tant'è che ci saranno due classi in più e noi avevamo, credo, il dovere di garantire appunto che questi ragazzi potessero svolgere le attività didattiche, perché quegli spazi che sono stati dati all'Istituto Alberghiero sono esclusivamente vincolati alle attività didattiche. Quindi in quelle aule si realizzeranno, ci auguriamo quanto prima, attività didattiche in modo tale che quell'Istituto possa andare avanti. Allo stesso modo ci auguriamo che gli spazi che abbiamo allestito per la scuola Mancini siano sufficienti ed idoni a garantire un anno scolastico svolto in maniera assolutamente regolare. Se ce ne fosse bisogno siamo pronti a creare anche altri spazi per far sì che la didattica e le attività complementari nell'Istituto Mancini possano svolgersi nel migliore dei modi.